Di che cosa possiamo parlare? Ancora di IRPEF, di Comune di Palermo, Amministrazione Comunale, Sindaco di Palermo, Sindaco, Giuseppe Ferrandelli, capo gruppo IDV al Comune di Palermo, che ieri sera naturalmente ne ha viste di belle. Sembra quasi una barzelletta, sembra quasi un film, una fiction, forse più fiction che film, però noi palermitani siamo ancora più che mai incazzati e non riusciamo a capire l'evolversi di questa faccenda dell'IRPEF, che a questo punto non sta diventando più il problema del 4% in più, 4% in meno, 2%. Il problema è uno, secondo il nostro punto di vista. Noi non vogliamo pagare le cazzate che hanno fatto questa amministrazione. Non sono le 40 euro all'anno, che non muore nessuno con 40 euro. Il problema nostro è che noi non vogliamo pagare le porcate che hanno fatto questi signori, dirigenti, presidenti, quelli che siano dell'Amel, quelli che hanno fatto sparire 300 milioni di euro. Tu credo che hai centrato il problema. Tu dici che i cittadini parmitani non vogliono pagare quelle che sono le malefatte della politica. L'AMIA, io lo dico con serenità, del resto il sindaco sa come io sono disponibile anche a farmi querelare, abbiamo una querela in corso. L'AMIA è stata utilizzata nel corso degli ultimi anni per dare presidenze e posti di sottogoverno a vecchi trombati della politica, tutti coloro che non riuscivano ad avere un posto a strada delle lapidi per poterli mettere là dentro, sono stati fatti degli sprechi, non a caso Dubai. E poi tu vedi appunto buchi di milioni e milioni di euro che non possono pagare i cittadini parmitani. La banda del buco di Palermo. La banda del buco di Palermo. I cittadini parmitani non possono pagare nuovamente con le tasse il buco che ha fatto la politica. E quando tutti mi dicono come si ripiana AMIA, noi abbiamo fatto diverse proposte. Noi abbiamo fatto la proposta quella di fare una unica multiservizi per le aziende comunali, quindi ridurre tutti i consigli di amministrazione che ci sono nelle aziende partecipate, non metterci consigli di amministrazione con personaggi che prendono più di 200 mila euro l'anno, ridurle e quindi avere un unico consiglio di amministrazione. Per queste persone hanno anche necessità sessuali, i soldi servono. Quello è può soddisfarle il sindaco qualora ci siano necessità da parte di queste persone. Se un personaggio di questi deve andare a puttane, come fa? Può andare a Dubai così come ha fatto finora. Perché io mi chiedo, nelle ricevute, io sono convinto che nelle ricevute che sono state presentate a Dubai, quando le stesse persone hanno presentato il doppio conto di albergo, che dormivano due volte in uno stesso albergo, credo che ci abbiano fatto pagare anche i desideri sessuali di qualche amministratore. Vero, guarda quello. Prima si divertiva con una donna e adesso succhia uccelli e lo prende tra le chiappe. Se noi riuscissimo a mettere queste aziende a incorporare, noi avremmo circa 100 milioni di euro l'anno, altro che i 22 milioni dell'IRPEF che i cittadini palermitani dovrebbero pagare a causa di camarate. Che cazzo dici? Scusa, è lì chi ci mettono poi? È chi ci mettono. Chiaramente non ci possono mettere più gli amici del sindaco, però noi crediamo che non ci siano più veramente le condizioni per poter andare avanti. Forse questo lavoro non fa per te. Non spetta a te giudicarlo. Sono i miei affari. Ah. Per cui abbiamo anche presentato una mozione di sfiducia, qui ne ho portato una copia che porta ad oggi la firma di tutti i consiglieri, la firma di tutti i consiglieri del centro-sinistra, al quale facciamo un invito, un invito all'MPA. Le firme sono depositate in segreteria, sono depositate in segreteria generale, questa è una copia dello stampato ed è riscontrabile. Aspettiamo le cinque firme dei consiglieri dell'MPA e le firme dei consiglieri del gruppo appena nato, del gruppo, le cinque firme dei consiglieri dell'MPA. Noi riusciamo a presentare la mozione di sfiducia in consiglio comunale. Poi se arrivano pure qui le PD alle Sicilia. Facciamo l'unplane e quindi in realtà possiamo dare la discussione di questa mozione. Che schifo, dobbiamo andarcene da questa città. Ieri noi abbiamo dato l'opportunità a tutti i consiglieri che non si riconoscono nell'aumento dell'IRPEF di poter dire la propria e di poter dire ai cittadini parmitani, cari cittadini parmitani, noi non vogliamo che in un momento di crisi a fronte di zero servizio in più erogato ti si aumentano le tasse. Avremmo potuto votarlo. In realtà quello che abbiamo visto è stato un gruppo di pochi consiglieri ormai, Giulio Tantillo, Giuseppe Milazzo e qualcun altro dell'Udc. Convertitevi! Negli altri del PDL che hanno fatto una farsa in consiglio comunale per non fare trattare questa appunto delibera. Delibera che non si è trattata a causa dell'ostruzionismo ed esasperare il clima all'interno dell'aula. Tanto da dare veramente uno spettacolo ai cittadini che erano lì ad aspettare risposta da quel consiglio, l'unica risposta che gli è stata data è che obiettivamente c'è una classe politica che non rappresenta la città perché vedere consiglieri comunali prendersi a cazzotti all'interno di quella che dovrebbe essere l'aula in cui vincono gli argomenti e non la forza bruta dei muscoli, credo che la dica lunga. E ieri questi consiglieri del PDL e dell'Udc si sono presi la responsabilità di non votare questa delibera e quindi hanno detto palesemente alla città che noi siamo favorevoli all'aumento delle tasse. Loro mi pagano, io faccio tutto quello che vogliono. Ma noi continueremo perché voteremo questo atto, ci sarà la variazione di bilancio e noi restituiremo il maltolto ai cittadini palermitani. Però il peso più grande ce l'hanno i cittadini. Quando i cittadini vanno al voto non devono assolutamente premiare quei partiti che fanno delle scelte che non sono delle scelte per la città. Perché io che vedo candidato in un partito qualcuno che mi ha levato la tarso che mi mette la spazzatura veramente fino al secondo piano nelle piazze ho una grande possibilità, quello di mandarla a calci in culo. Tu pensi che saresti ancora in questo giro se non lo volessi io? Cittadini, se questa cosa passa non è tanto il fatto, ripeto, delle 100, 200, 300 euro perché siamo ricchi noi in Sicilia, anche voi, i soldi li possiamo buttare con le tante. Possiamo donare, tanto siamo abituati a donare il sangue, il cosiddetto buttare il sangue in Sicilia. Il vero fatto è che questi soldi non serviranno a far star bene i siciliani ma a coprire un buco e le malefatte di alcuni elementi che sono brigantoni che si sono fottuti i nostri... Ci vuole la galera per questo. Tutti crederanno che sono stato io a rubarli. Sì. Forse magari penseranno che sei stato poco attento ai contanti ma che ti importa? Che vuoi che sia? Io ormai non mi stupisco più di vedere una grandissima percentuale di astensione al vuoto perché ormai per i cittadini in generale la politica viene vissuta soltanto come quelli che si fanno i loro porci comodi che levano la possibilità di sviluppo a questa terra come coloro che sperperano i soldi andandosene a Dubai e noi, i cittadini normali, come tantissime persone oneste e corrette e Palermo alla grande maggioranza di persone che escono la mattina per un pezzo di pane che poi lo facciano abusivamente, lo facciano rispettando le regole e questo dipende dalle condizioni che l'amministrazione non ha creato tantissime persone che escono, se lo fanno tanto, ma veramente se lo fanno tanto per portare avanti la famiglia e poi vediamo dei banditi e dei mascalzoni che non solo giorno di vacanza a Dubai, in un pranzo, sperperano 800 euro dei cittadini palermitani quando 800 euro per una famiglia sono un miraggio sono un miraggio per le famiglie palermitane, ci sono famiglie palermitane numerose che campano con molto meno, per cui noi siamo stanchi di avere offesa costantemente la nostra cittadinanza Io la mattina esco e come me e tanti altri consiglieri andiamo nei bar andiamo in giro, andiamo per la città, facciamo la spesa quando vediamo un consigliere comunale che non rispetta, che non rispetta noi stessi non rispetta un mandato, ma assicutiamolo, ma facciamo sentire la nostra voce perché qui c'è soltanto da andarsene a casa, prenderci le nostre responsabilità e andarsene a casa chi ha lavorato bene verrà rieletto, chi ha lavorato male se ne deve andare a calci in culo Ieri abbiamo visto in aula consiglieri comunali che io manco li conoscevo non li ho visti mai in questi due anni e mezzo di lavoro e vengono ora che la barca sta affondando, ed è il caso di dirlo ora vengono perché non ci sono più numeri Ti fidi di me, mi fido di te Dico, è vergognoso tenere parassiti in un momento in cui la città invece ha bisogno di gente che lavori giorno e notte per ripristinare le condizioni di sviluppo quindi io faccio un appello a tutti quanti, al di là delle forze veramente politiche di appartenza per la liberazione della città di Palermo da una amministrazione rovinosa che produce debiti e non produce e non crea le condizioni per sviluppare futuro io credo che noi questo ce lo meritiamo ce lo meritiamo noi, ce lo meritano tante famiglie, ce lo meritano tanti giovani ce lo meritano tanti imprenditori ce lo meritano tutti coloro che sperano di vedere riconosciuti i propri diritti e che da due anni trovano soltanto porte chiusi al Palazzo delle Aquile Bene, non aggiungo altro perché non c'è altro da aggiungere e perché Ferrandelli deve andare a lavorare per noi Vai Fabrizio Grazie Grazie